E ora ci avviciniamo al prossimo intervento con Antonio Brunori che sono molto felice di presentare perché fra l'altro sarà anche un mio istruttore durante il corso per diventare operatore di discipline bionaturali nell'ambito del forest bathing. Non so quanti di voi conoscono questa nuova pratica che arriva dall'Oriente ma è assolutamente registrata nelle nostre cellule perché tradotto in italiano sono i bagni di foresta e sono ciò che era di più spontaneo e intuitivo fare soprattutto dai popoli più antichi ma che fanno tuttora anche gli animali quando hanno bisogno di ritrovare guarigione. Quindi sono felicitissima di presentarvi il dottor Antonio Brunori che è già qui con noi. Ciao e buongiorno. Ben trovato, non ci conosciamo di persona ma sicuramente ci vedremo presto. Certo. Antonio se ti vuoi un po' presentare poi ti lascerei la parola per raccontarci che cos'è il forest bathing, come e perché praticarlo. Sì, guarda io ho fatto una presentazione in cui c'ho anche una mia presentazione perché il tema è molto impegnativo, diciamo, ha delle caratteristiche che mi piacerebbe appunto presentare attraverso delle immagini. Ti chiedo se riesci a vedere la prima slide. Sì, io la vedo. Perfetto. Allora, guarda, il titolo del mio incontro è appunto dove e come praticare il forest bathing nei boschi italiani. Questo è il titolo che con Francesco ho concordato e volevo appunto... Io sono un dottore forestale e sono il responsabile italiano della PEFC che è un'organizzazione internazionale con sede a Ginevra che si occupa di gestione forestale sostenibile, di tracciabilità e quindi è di tutto il mondo, diciamo, definiamolo così, del settore foresta e mondo degli alberi. E quindi il mio tema è stato facilmente per me inquadrabile perché non ci sono dubbi sul fatto che i boschi abbiano degli effetti sulla salute, no? Ci sono anche evidenze scientifiche, ma il tema chiave è ma tutti i boschi sono uguali tra di loro anche nel dare una efficace attività salutistica nelle persone e tutti sono adatti i boschi per il forest bathing e magari i boschi di montagna con le conifere lo sono di più dei boschi a lattifoglie sempreverdi. Ecco, io in questo incontro vorrei proprio arrivare a fare non dico arrivare a una conclusione ma sicuramente a focalizzare su questo tema però con gli occhi di chi lavora nella prima parte del termine forest bathing, cioè foreste lasciando poi a chi si occupa di scienze mediche di scienze cliniche, di professioni sanitarie l'aspetto del bathing, cioè degli effetti sulla salute, ok? Quindi questo sarà l'approccio che io voglio dare a questo incontro Giulia, io so che devo fare 45 minuti e poi sono disponibile per le domande quindi se ti va bene io partirei. Assolutamente sì, ti lascio la parola. Ok, ottimo. Allora, la prima cosa che mi va di raccontare è che mi ha sempre colpito questa frase di Johann von Goet che diceva l'occhio vede quello che la mente conosce e quindi proprio con questo disegno che secondo me è fantastico la mia verità su quello che è il forest bathing è sicuramente diversa da quella che vede magari uno psicanalista, uno psichiatra o magari un semplice amante del bosco pur sapendo che la verità è un'altra rispetto a quello che io vedo perché io sono un dottore forestale e mi sono laureato in scienze forestali studiando gli effetti nefasti che l'uomo ha inquinanti sulla vegetazione poi mi sono laureato negli Stati Uniti sul tema della agroforestazione nelle zone tropicali e ho girato il mondo alla ricerca di quelle che sono le piante più rare e più grandi in funzione della biodiversità ho lavorato nel deserto del Negev e ho visto come un ambiente totalmente privo di vita come questo con grandi sforzi con un minimo di attenzione e sensibilità verso la natura si può convertire appunto questo è il mio bosco che ogni due anni vado a verificare fin da quando ho 25 anni adesso ce n'ho 57 quindi ho questa bella diciamo volontà di cambiare il mondo e lo faccio appunto con gli alberi poi a 50 anni mi sono rimesso a studiare perché c'è tanto 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 da studiare soprattutto nel mondo delle piante e quindi ho fatto un dottorato sui servizi ecosistemici delle piante in particolare dell'olivicoltura e quindi ho avuto altri compagni di avventura come questo olivo che ho incontrato a Nazareth che ha 2100 anni quindi la mia visione è sia professionale appunto perché rappresento l'Italia in questo consesso internazionale sulla gestione corretta e sostenibile delle foreste ma la curiosità di saperne di più e di conoscerne di più sapendo che è impossibile sapere tutto sulle piante nasce appunto da altre attività per esempio ho installato dei sensori questi tree talker infatti mi chiamano l'uomo che sussurra gli alberi ma semplicemente perché ascolto gli alberi e con Riccardo Valentini che premio Nobel nel 2007 per gli studi sul cambiamento climatico con l'IPCC abbiamo installato appunto questi sensori e li stiamo seguendo per capire qual è l'impatto del cambiamento del clima sulla vita delle piante quindi diciamo che è un modo anche per interagire con la vita delle piante penso quindi di quando entro in un bosco di avere degli occhi aperti un terzo occhio particolarmente aperto e sensibile quindi mi è chiaro per me che quando parliamo di forest bathing parliamo di tanti tipi di forest bathing e soprattutto di tanti tipi di foreste non esiste la foresta o il bosco la vita si complica perché poi gli alberi oltre al loro stato naturale o seminaturale possono essere coltivati come arboricoltura possono trovarsi in ambito urbano possono trovarsi in ambito agricolo quindi agroforestazione e quindi con la mia organizzazione ho sviluppato dei metodi per quantificare non soltanto la vitalità di questi sistemi anche i loro servizi o semplicemente il loro rispetto cioè lasciarli alla loro libera evoluzione questo è un po' il concetto di base ma a che punto siamo? dove siamo? siamo in un punto in cui il mondo diecimila anni fa e cioè esattamente quando l'uomo ha iniziato a colonizzare il nostro pianeta noi abbiamo già distrutto un terzo della superficie delle foreste cioè in diecimila anni ok? ora sono quattro miliardi di ettari diecimila anni fa erano sei miliardi di ettari e quindi come si vede dal grafico di sinistra la linea azzurra è la copertura forestale è evidente che la copertura delle foreste è diminuita vertiginosamente così come vertiginosamente è cresciuta la popolazione sulla terra questo però su scala internazionale in Italia sta succedendo l'opposto cioè aumenta la popolazione e aumenta anche la superficie forestale quindi è un po' una controtendenza questo è dovuto al fatto che noi abbiamo abbandonato le campagne e la montagna per andare in pianura quindi abbiamo e stiamo distruggendo le foreste di pianura la vegetazione in pianura ma per fortuna potrei dire la copertura degli alberi sta invadendo riconquistando la superficie che noi fin dall'epoca dei romani abbiamo dissodato bonificato ecc non è proprio una notizia così straordinaria nel senso che è bene perché abbiamo più superficie fotosintetizzate ma da un punto di vista della biodiversità in maniera quasi strana quasi irragionevole per chi non ha basi biologiche in realtà stiamo perdendo tanta biodiversità biodiversità ecotonica biodiversità paesaggistica ecc però questo è il tema di un'altra conferenza qui entro un pochettino nel merito il tema di base che è l'uomo che è centrale non è il tema del forest bathing noi abbiamo di fatto avuto un incremento pazzesco perché il primo miliardo di persone era 200 anni fa poi nel 1927 abbiamo raggiunto i 2 miliardi nel 1959 i 3 miliardi nel 75 4 nel 1999 5 7 miliardi al 31 ottobre 2011 e il prossimo anno saremo 8 miliardi vedete proprio è un'evoluzione incredibile se ci pensiamo ed è una situazione in cui tutti gli elementi vedete tutti gli elementi che io ho messo in calcolo dalla popolazione al reddito agli investimenti alla popolazione in città all'energia al consumo di fertilizzanti al consumo di acqua al consumo di carta al consumo al quantità di trasporti eccetera e tutto 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 sta esplodendo dal 1950 a oggi e la natura al suo tempo come vedete aumenta l'ossido di carbonio gli ossidi di azoto il metano l'ozono in stratosfera tutti gli elementi che diciamo sensibili nella natura stanno aumentando allora se tutto questo è così beh allora è evidente che la causa diciamo più evidente del cambiamento climatico è l'incremento di anidride carbonica e quindi di temperatura all'interno della della nostra stratosfera e troposfera il 72% degli italiani vive in città e guarda caso le città sono sia carnefice che vittima di questa situazione e di fatto rappresentano l'elemento principale del riscaldamento globale in termini di produzione di anidride carbonica ma pensate che siamo soltanto il 2% della superficie mondiale occupata dalle città allora perché dico questo perché proprio perché noi italiani viviamo per il 72% in ambito urbano subiamo anche le quelli che sono i problemi del riscaldamento globale maggiormente che nelle zone non urbane pensate che io nella città dove vivo negli ultimi 50 anni abbiamo avuto un incremento di un grado e mezzo Milano 3 e 40 Roma 3 e 70 so che alcune città tipo Messina hanno avuto un incremento di 4,7 e pensiamo che Glasgow punta ad avere da qui al 2030 un incremento di solo un grado e mezzo dal 1870 dall'epoca industriale preindustriale e noi negli ultimi 5 50 anni abbiamo avuto questo incremento quindi è evidente che la natura ci aiuta e gli animali lo sanno da questa situazione e anche le mandre umane lo sanno benissimo ora questo non vuol dire che dobbiamo necessariamente portare le foreste in città ma sicuramente le foreste in città aiuterebbero a ridurre l'isola di calore ma quello che è più importante bisognerebbe ridurre il nostro impatto sull'ambiente quindi cambiare stile di vita perché così come non va bene ma non va bene anche per altri motivi scala globale la deforestazione è la seconda voce dopo il consumo di sostanze fossili quindi di carbone di petrolio eccetera a incrementare il global change quindi la deforestazione e la deforestazione è una delle cause che ha determinato il coronavirus quindi è tutto collegato no? assolutamente cioè quando il sistema pianeta sta male come dice il Papa è impossibile pensare di vivere sani in un pianeta che si sta ammalando quindi è necessario proprio cambiare modalità di vita anche perché il Covid-19 rappresenta soltanto un campanello d'allarme di quello che potrebbe succedere se non cambiamo regime infatti lo tsunami del cambiamento climatico è quello più grave che dobbiamo avversare in questo momento le piante la natura pensate che in questo momento che siamo 7,8 miliardi l'uomo la razza umana rappresenta appunto una piccolissima parte della vita sulla terra lo 0,01% gli animali rappresentano lo 0,3% mentre i famigerati batteri e virus complessivamente sono il 15% chi vince la battaglia in termini di di quantità e anche di qualità sono le piante e la vegetazione e non dobbiamo scordarci che noi siamo esseri eterotrofi che dipendiamo totalmente dalla presenza delle piante perché sono l'unica forma vivente sulla terra di autotrofia cioè di autoproduzione delle sostanze nutritive perché sono le uniche che riescono attraverso la fotosintesi a trasformare elementi inorganici come le molecole di enidride carbonica e l'acqua e alcuni sani minerali in zuccheri e in altre sostanze utili alla vita e da qua che parte proprio l'aspetto diciamo focalizzato del mio argomento e cioè l'aspetto della natura che fa bene qui siamo sul monte amiata in una zona di faggeta gestita ovviamente in maniera sostenibile infatti questa è certificata PFC appunto che è la mia organizzazione sappiamo quindi che la natura fa bene e fa star bene quindi non è soltanto una questione di uno entra e sta bene no proprio se uno cerca di stare bene abbiamo la certezza che la natura ci dà questa possibilità non solo fa bene fa star bene e aiuta il sistema immunitario è qui che inizia l'aspetto proprio scientifico perché non è una cosa di sole sensazioni Giulia prima diceva lo sappiamo è una cosa innata ok noi siamo razionali e siamo riusciti a quantificare questo aspetto e da una parte va anche bene posso dire perché in questa maniera ci rendiamo conto di quello che stiamo perdendo ora questa considerazione addirittura nasce dalla scuola ipocratica quindi sono 2500 anni che Ippocrate diceva la natura guarisce in Giappone che hanno una visione orientale e quindi già ho detto tutto noi siamo occidentali molto razionali molto noi vogliamo qualcosa dobbiamo raggiungere l'approccio orientale invece non è di performance è più sistemico è più organico è più olistico e loro hanno tranquillamente inquadrato lo Shinrin-yoku cioè questa immersione nelle foreste come attività che giova fisicamente e mentalmente semplicemente perché è vista come una medicina preventiva cioè tenere alti i livelli di immunità e di salubrità nei comportamenti ma anche di sanità mentale e fisica quindi da razionale come sono io quindi da occidentale ho provato a farvi vedere tutte le cose allora se uno va in bosco come se uno andasse al cinema e gli dice vediamo un po' cosa voglio vado in questa sala vado in quell'altra cosa voglio ridurre la mia aggressività stare meglio migliorare il diabete pensate che c'è tutta questa lista del che un medico potrebbe dire guarda questo migliorare il recupero post-operatorio tutte queste cose qui scritte sono vere e quantificate però mi interessa anche farvi capire che l'approccio al forest bathing ha due approcci quello occidentale che ha razionalizzato tutto questo mondo attraverso la psiche e ci sono diversi studi proprio definiamoli così razionali legate alla le teorie evoluzionistiche il più famoso è Wilson con la sua biofilia poi c'è il ristoro dell'attenzione la restoration of attention Kaplan e Kaplan la riduzione dello stress il visitor mental power eccetera queste sono le più discorse però quello che è interessante è vedere quante pubblicazioni sono state fatte fino a pochi anni fa prevalentemente sugli aspetti psicologici addirittura psichiatrici e quindi è un approccio appunto legato tantissimo come spiegava Wilson che era legato a diciamo agli studi di Eric Fromm che parlava appunto di biofilia cioè quella innata filiazione emozionale dell'uomo ad altri organismi viventi quel rapporto emotivo che da sempre lega gli esseri umani alle altre forme di vita e che li ha accompagnati nel lungo viaggio dell'evoluzione perché dico questo perché in realtà l'uomo è una specie giovanissima ha 300.000 anni e per 290.000 anni è sempre stato dentro la natura e ha sviluppato da un punto di vista sensoriale di intuito emotivo dei rapporti con la natura in assoluto e molte delle proprie modalità operative attuali anche se sono solo 10.000 anni che noi viviamo chiusi in casa ancora le viviamo però di fatto l'uomo si sta piano piano allontanando da questo contatto da questa affiliazione emotiva con la natura e pensate che una delle ultime malattie canonizzate è appunto il deficit di natura perché perché gli uomini passano gran parte del loro tempo quotidiano in ambiti indoor in Europa lo studio che vedete sulla destra con uno studio del 2017 classifica il dato medio di un europeo che supera le 22 ore al giorno in cui noi stiamo dentro qualcosa cioè lontano dal contatto con la natura e pensate che questa è una media quindi pensate i contadini o chi lavora con la natura in teoria anch'io che sono un dottore forestale ma anch'io faccio parte di questa bruttissima categoria delle 22 ore al giorno ormai di fatto ha allontanato la propria esistenza dalla natura e questo è canonizzato con questo natural deficit disorder che è appunto un nuovo tipo di patologia che guarda caso colpisce soprattutto i bambini che hanno appunto problemi di attenzione di concentrazione eccetera e con la pandemia questo è aumentato questa situazione interessante l'approccio invece orientale dove il dottor Lee che è riuscito attraverso i propri studi addirittura ha sviluppato un dipartimento di medicina forestale a quantificare una serie di studi su una serie di diciamo effetti sulla sull'uomo ha addirittura fatto degli studi in cui ha individuato i fitoncidi i monoterpeni gli ioni positivi cioè dei composti chimici che inducono addirittura l'incremento di natural killer che sono degli enzimi possiamo definirli così che aumentano il livello di resistenza del nostro sistema immunitario io non sono un medico quindi userò termini sbagliati ma tanto l'importante è il concetto il concetto qual è che se si fanno degli studi vedete in alto a sinistra prima e dopo quindi misurando il battito cardiaco la pressione arteriosa ormoni dello stress tra cui il cortisolo l'adrenalina la noradrenalina e appunto questi linfociti numero attività dei linfociti nel sangue dopo che sono state fatte varie esperienze guardate dall'abbracciare gli alberi a stare riposarsi accanto a un albero a visitare un bosco camminando a fare delle attività di gestione forestale a fare attività di cammino ad occhi chiusi quindi innalzando il contatto sensoriale camminando addirittura all'indietro pensate dei medici che si sono messi a quantificare tutte queste esperienze su questi elementi naturali bene è uscito fuori che ci sono degli impatti così tanto che si è sviluppato appunto questa disciplina che è lo shinrin-yoku o forest bathing che appunto nasce per innalzare il contatto dell'uomo con le attività biochimiche ma anche l'aspetto sensoriale per espandere i sensi e il respiro quindi addirittura in Giappone esistono queste pratiche che servono che sono segnate dal sistema sanitario nazionale come integrative alla medicina tradizionale e quindi sono veri e propri ricettabili un quantitativo minimo perché qua parliamo di effetti dose e tempo derivanti così come uno prende una medicina tipo un aspirina 500 mg per tre giorni due volte o tre volte al giorno qui i medici dicono tu vai in quel bosco ci devi stare almeno 12 ore per tre giorni minimo quindi un vero e proprio trattamento di forest bathing poi ovviamente l'aspetto diventa più standardizzabile e quindi parliamo di forest medicine qui in Europa parliamo anche di forest therapy ma qui parliamo di un'altra cosa perché parliamo di un approccio più interventistico dove solo degli esperti e quindi parliamo dei terapeuti individuano delle attività specifiche per il benessere psicofisico ma anche per la cura di stati di malessere quindi in genere anche psichico ora la mia relazione non ha a che fare con niente di questo perché quello di cui io parlo è parlare di quali luoghi possono essere funzionali a queste attività però la maggior parte dei medici o psichiatri o biologi che si occupa di queste materie generalmente non ha grandi resistenze grandi conoscenze di selvicoltura o di mondo forestale ecco perché con la mia organizzazione ci siamo messi a studiare quali boschi hanno certe caratteristiche per metterle a servizio di chi vuol fare un tipo di attività nella miglior maniera possibile ok io proseguo si Giulia costa sono proprio entrato nel merito a questo punto grazie e nei prossimi venti minuti parliamo di bosco parliamo di legno e prodotti forestali non legnosi no perché questi sono i prodotti parliamo dei servizi dei boschi perché i boschi offrono biodiversità stoccano l'indirida carbonica quindi funzione climatica tutelano gli aspetti idrogeologici aiutano la produzione di acqua quindi i servizi idrologici e ed ecco il nostro aspetto forniscono un servizio culturale di fruibilità turistico ricreativo addirittura spirituale ed è giusto quindi quando un dottore forestale o chi è un gestore sappia che un bosco deve fornire in maniera multifunzionale questo agli uomini quindi è una grande responsabilità per un dottore forestale sia che faccia legna da ardere con un bosco ceduo o che faccia legna da opera con un bosco alto fusto che sappia che tutto questo deve essere tutelato e protetto quindi alcune parti dovranno andare alla libera evoluzione altre dedicate al turismo altre per la conservazione della biodiversità eccetera eccetera quindi so che c'è qualche collega forestale che mi ascolta e quindi do la bella notizia che il QFC ha sviluppato uno standard di servizi ecosistemici focalizzato sul turismo e su l'idoneità a offrire benessere forestale cioè noi abbiamo sviluppato un vero e proprio standard che dà i punteggi ai boschi in funzione di quali sono gli obiettivi quindi focalizzando sull'obiettivo turistico ricreativo che sia invernale o estivo bicicletta o semplice trekking bird watching o camminate quello che è ci stanno delle regole da rispettare e queste regole noi le abbiamo standardizzate questo è il mio ruolo come responsabile di un ente normatore per cui un bosco può essere classificato e dato un punteggio se c'è una strategia se c'è un'accessibilità se ci stanno dei detrattori cioè qualcosa che disturba se tutte le stagioni sono adatte o no e quindi bisogna comunicarle quando si può utilizzare o essere fruibile oppure ci stanno cartellonistiche segnavia c'è un'accessibilità anche per persone con disabilità ci stanno delle strade sentieri mulattiere sono ben tenute o no infine ci stanno operazioni selvicolturali ci stanno malattie è invaso da cinghiali e quindi pieno di zecche il sentiero tutte queste cose vanno classificate possibilmente mitigate oppure se noi vogliamo dare una connotazione più sull'idoneità al benessere queste ci sono zone in cui è possibile attivare la restoration activity oppure si possono abbracciare gli alberi si può stare in autonomia con massima serenità si può fare qigong o fare un minimo di meditazione ecco su questo noi abbiamo sviluppato ulteriore modalità la la struttura è adeguata l'orografia ti permette di fare in autonomia delle sessioni di forest bathing oppure è necessario avere una persona che ti accompagni esistono complessità strutturali esistono archetipi tipici fuoco aria terra acqua esistono modalità per quantificare i monoterpeni o gli ioni positivi ecco tutto questo noi l'abbiamo sviluppato insieme a uno dei massimi esperti qua in Italia che è il dottore agronomo Marco Mencagli che già nel passato aveva scritto un libro con Marco Nieri e cioè la terapia segreta degli alberi e hanno entrambi sviluppato dei progetti antesignani come il parco del respiro di fai della paganella o l'oasi zegna quindi basandoci su queste loro esperienze e sull'esperienza tecnica di Marco Mencagli abbiamo iniziato a verificare a punteggiare e a dire questo bosco va bene si può certificare per l'idometà per esempio esistono dei trattori guardate qui abbiamo un albero caduto oppure delle operazioni selviculturali è inutile che noi proponiamo il forest batting quando abbiamo delle motoseghe in essere oppure tutto il bosco è pieno di tronchi che non ti fanno camminare è una questione di tempistica qui per esempio abbiamo un castagneto le operazioni del castagneto di pulizia di potatura di innesso si fanno d'inverno questo posto è meraviglioso durante l'estate ma è inutile andiamo a dire questo castagneto tutte le stagioni sono fruibili no bisogna essere chiari stessa cosa se noi parliamo di danni biotici oppure di densità di strade guardate qua questo è un castagneto che ha avuto un problema enorme di galaverna cioè di ghiaccio che si è formato e ha schiantato tutte le piante fortuna che c'è il gestore forestale che l'ha pulito e vedete qui abbiamo le ceppaie alla base che stanno riscoppiando però almeno è fruibile questo posto non al primo al secondo anno ma sicuramente dal terzo quarto anno in poi oppure questa è una foto che ho preso io subito dopo la tempesta vaia e questo era un bosco che stava benissimo prima del 28 ottobre del 2018 quindi qua bisogna assolutamente entrare e tagliare i tronchi a terra e fare qualcosa ma talvolta vedete questo bosco qua questo è uguale vedete ha avuto la tempesta vaia e i tronchi a terra hanno formato famiglie di bostrico di tipografus che hanno cominciato ad attaccare le piante in piedi e qua un dottore forestale deve fare solo una cosa levare immediatamente le piante in piedi prima che diventino e se stesse un centro di diffusione delle malattie che vanno a uccidere tutte le altre oppure vedete qua è stato fatto un diradamento ottimamente perché guardate subito dopo aver levato i tronchi qua verrà un posto meraviglioso cioè si è ridotta la densità e abbiamo più luce e spazio non solo per gli uomini a camminare ma anche per la biodiversità in senso complessivo procedendo magari sarò un po' prosaico però questa è la realtà un professionista per dare garanzie deve catalogare quindi io pieno di entusiasmo di sensibilità che ascolto gli alberi quando vado lì c'è poco da fare quanto è la densità come posso far migliorare la fruibilità c'è da diminuire la densità c'è da levare delle parti di sottobosco eccetera come posso progettare anche un bosco guardate se io vado a dare un punteggio alle conifere monospecifiche cioè tipo una pecceta cioè solo a bete rosso a un punteggio di uno il punteggio più alto invece è latifoglia plurispecifica cioè abbiamo acero ciliegio faggio frassino di varie dimensioni di varietà di varia altezza a tre punti di massima così come il misto cioè conifere e latifoglie con più specie quelle che sono le più banali le banali banalizzabili sono appunto le conifere monospecifiche cioè se io ho una faggeta così è adatta ma se io ho una abetina come questa che è stata piantata dai benedettini cento anni fa ma rappresenta la maggior parte delle peccete presenti nel nostro nelle nostre alpi e qua diciamo che è poco entusiasmante non è tanto come un bosco di lattifoglia come questa faggeta ma è sempre bello però da un punto di vista del forest bathing ha una minore attrattività spiegando ancora per esempio l'età se abbiamo età coetanee piuttosto che disetanee noi abbiamo una minor percezione della dello stare bene la migliore è avere disetanea cioè con età diverse a gruppi e quello c'ha il massimo di punteggio e il sottobosco la cosa migliore per esempio è mediamente diffuso perché se è molto diffuso noi non entriamo abbiamo un senso di angoscia e non abbiamo la contentezza di entrarci quindi abbiamo il timore ad avventurarci quindi vedete qua sulla sinistra uno non entra magari ha bisogno di avere più libertà per entrare l'orografia ecco l'orografia è importante ci stanno dei guadi abbiamo dei dislivelli alti e bassi abbiamo delle zone esposte abbiamo delle spazi esterni al percorso tutto questo vedete è stato classificato e quindi avere un bosco di questo genere dove c'è un accesso semplificato aiuta molto e ovviamente anche la complessità se noi abbiamo degli raggruppamenti di alcuni elementi sporadici piuttosto che più diffusi omogenei ricorrenti se ci abbiamo dei punti focali importanti è particolarmente rilevante cioè è evidente che noi in questo posto qua il forest bathing cioè questa immersione nel bosco non lo facciamo anche perché non è solo una questione di accessibilità fisica è proprio di disponibilità psichica e quindi dobbiamo essere in grado di individuare quelle aree adeguate quindi ecco perché non tutti i boschi sono adeguati perché dipende dall'età dalla loro storia dipende dalle caratteristiche scene paesaggistiche dipende dalla regolarità del suolo guardate questo per esempio che è un'altra foto che ho fatto nel consiglio questa è la mia collega guardate l'ho riuscita a vedere qua sulla destra è cioè è è un bosco delle fate è meraviglioso ma perché c'è luce perché c'è l'occhio che spazia e questo ha delle radici antropologiche molto molto importanti perché l'uomo proprio perché è un animale che è vissuto sempre nella natura se ha la possibilità di visuale si sente più rassicurato perché quando è lo spazio occluso lui noi come animali siamo in ansia perché dietro quelle zone così oscure potrebbe nascondersi un animale che ci vuole uccidere il pericolo mentre quando c'è libertà quando c'è possibilità di fuga o comunque di tranquillità che è l'occhio noi stiamo bene stiamo sereni non so se riesco a tradurre queste diciamo questi punteggi in un qualcosa che ha una fortissima base scientifica andiamo a vedere altri ambiti per esempio la presenza di elementi che rafforzano le specificità naturali un bosco di questo genere come dicevo ha delle caratteristiche importanti non soltanto per l'aspetto che è monospecifico ma perché è alto e quindi ci fa sentire piccoli e allo stesso tempo ci fa sentire molto parte di questo sistema e guarda un po' questo bosco qua è stato creato dai benedettini che avevano un approccio alla natura molto razionale ora et labora loro piantavano tutti gli anni qualche ettaro di specie ad alto valore economico cioè tipo l'abete bianco o l'abete rosso e e poi tagliavano a raso tutto quello che non gli serviva quindi questa è Vallombrosa qui siamo a Camaldoli e questo bosco è completamente diverso da questo che è un bosco dei francescani che nella loro logica della questua e quindi del prendere ciò che serve questo è l'esempio del bosco intorno a Laverna qui noi abbiamo un tipo di bosco che non è monospecifico e coetaneo come lo creavano i benedettini ma è polispecifico con più specie ed è disetaneo con più età perché il francescano entrava in bosco e prendeva una pianta se gli serviva una trave prendeva la legna da ardere quindi tagliava piccole faceva un bosco ceduo piccolo poi usava un po' di frutta un po' di piante che gli servivano per di varie dimensioni eccetera quindi vedete perché anche la filosofia religiosa ha impattato su il modo di vivere intorno ai loro conventi bene il forest bathing è ben fatto in un bosco gestito intorno alle aree francescane e molto meno attraente intorno alle aree dei benedettini non vuol dire che non si debba o non si possa fare ma ha più punteggi un bosco polispecifico e dissetaneo spero che già queste cose qua facciano capire di quanto è complessa la gestione delle foreste il mio gatto allora presenza di elementi rafforzativi delle specifiche naturali e sceniche voglio farvi vedere appunto alcuni aspetti l'acqua è un elemento per esempio di grandissimo valore per i punteggi di un bosco adatto all'idoneo al benessere forestale se poi è per esempio ricco di rocce quindi acqua con rocce e abbiamo diversità sceniche questo favorisce ancora di più lo stare bene e i punteggi salgono se andiamo avanti negli ultimi cinque minuti della mia relazione abbiamo anche la componente del fuoco ed è l'aria quindi qua entriamo un po' no acqua terra fuoco e aria e anche questo fa parte per un nostro equilibrio di fare un'esperienza che ci permetta di avere questi elementi il più possibile tra loro in equilibrio poi ognuno di noi attenzione ognuno di noi preferisce stare più a contatto con elementi di terra piuttosto che di aria piuttosto che di fuoco dipende da come stiamo noi da qual è il momento storico però un bosco può se le offre tutti può permettere in massima libertà delle persone a rifugiarsi in quello che è l'ambito di preferenza se per esempio abbiamo delle montagne o dei laghi o degli specchi d'acqua questo aumenta ancora di più l'idonità ambienti poi questo fino adesso sugli aspetti fisici se poi entriamo sugli aspetti psicologici e cioè su Kaplan e Kaplan o la Tension Restoration Theory noi abbiamo creato dei veri e propri questionari dove si alla fine della nostra esperienza diamo un punteggio perché è importante nelle aree certificate per l'idoneità verificare se quello che abbiamo ipotizzato o creato è stato colto e quindi potrebbero esserci dei punteggi bassi per esempio nel being away e cioè nel sentirsi isolato oppure magari nella avere capacità di abbandonarsi magari ci stanno dei detrattori che la gente tipo una discarica mentre camminiamo che non avevamo verificato oppure un'area ricca di di tracce di cinghiali e quindi ci prende la paura beh non è che possiamo il bosco trasformare in un giardino però possiamo deviare il percorso lasciando alle aree ricche di cinghiali il loro area e all'uomo il proprio spazio continuando se qua parliamo di altri aspetti come il fascination e la coherence cioè gli aspetti di che ci sentiamo affascinati da questo mondo fa parte anche questo certo un bosco di latifoglie della macchia mediterranea ha un fascino completamente diverso di un bosco ad abete rosso delle alpi ma attenzione non è che esiste il bosco perfetto esiste l'occhio che vede quello che la mente sente e quindi ognuno cerca in un paesaggio in un bosco quello di cui ha bisogno per arrivare alla conclusione poi gli aspetti di alcuni elementi come questi possono essere più adatti agli aspetti fisiologici perché anche la biochimica e qui ci stanno dei studi di Meneguzzo del CNR di Firenze e di tutto il suo staff che sta da anni facendo quantificazione dei monoterpeni e quindi io suggerisco in internet pieno di informazioni sui luoghi dove queste aree magari con l'aiuto del CAI piuttosto che di privati hanno già queste indicazioni però noi non misuriamo noi abbiamo delle sorte di alias cioè di individuazione di posti che potenzialmente possono generare ioni positivi per l'acqua oppure attraverso l'effetto corona o l'attività fotosintetica possono avere un effetto potenziale sulla produzione dei monoterpeni quindi in Italia abbiamo tanti boschi e molti sono a conifere molti sono per esempio a lattifoglie e alcune specie come il cerro quindi ecco un altro elemento quali sono le specie che determinano o non determinano le emissioni per esempio il cerro ha dei bassissimi livelli di emissione di monoterpeni poi anche su questo una pianta stressata ha più monoterpeni rispetto ad altri che stanno in buona salute per esempio ma le conifere con la punta hanno più con gli aghi a punta hanno più effetto corona del faggio ma il faggio per esempio ha una emissione di monoterpeni non elevatissima ma una grande superficie fogliare quindi bisogna calcolare anche la superficie emettitrice quindi le faggete per esempio sono un luogo con alto buon contenuto di monoterpeni eccoci qua siamo arrivati in fondo quindi a questa bella chiacchierata quindi una foresta gestita in maniera sostenibile quindi che ha una buona accessibilità non ha grossi problemi legati a deterrenti ha una buona polispecificità eccetera aiuta l'uomo ma attenzione perché se noi andiamo a invadere le foreste per il nostro benessere creiamo un problema per la biodiversità e per gli animali quindi il nostro benessere guarda caso è sempre contro il loro benessere per concludere la natura fa bene lo sappiamo e sono centinaia gli studi la natura non ci parla siamo noi che gli diamo un significato e purtroppo non tutti lo colgono la natura agisce sul nostro benessere secondo un meccanismo che si può definire dose e tempo dipendente le persone i cittadini che hanno maggior deficit di natura sono quelle che beneficiano di più in modo consistente dal contatto con gli ambienti naturali non esiste un criterio uniforme o prescrittivo di fruizione della natura cioè non esiste una tecnica di forest bathing no ognuno può beneficiare sulla base della propria energia fisica e mentale può farlo totalmente in autonomia o può aver bisogno di un operatore che lo accompagna sicuramente l'effetto del contatto con la natura è misurabile ma attenzione non si può scindere l'aspetto totalizzante del corpo che è psiche e corpo e emozioni e fisiologia rispetto a una specifico effetto cioè io non vado in bosco per ridurre il cortisolo o per aumentare le mie difese immunitarie punto ci vuole un approccio assolutamente olistico e quindi l'approccio orientale aiuta molto per noi razionali ultimo commento esistono molti modi per catalogare l'idoneità al benessere quello che vi propongo è uno di questi e il XEN per esempio il centro sportivo educazione e natura ha identificato proprio nei boschi certificati pfc luoghi dove svolgere le proprie attività di forest buffing quindi io non vedo l'ora Giulia di averti anche nel corso che Andrea Mariotti sta organizzando perché l'impostazione è questa grazie grazie a te Antonio sono stata molto molto contenta di questo intervento perché mi ha chiarito tantissimi aspetti che ancora non avevo affrontato e ci terrei fra l'altro tanto appunto a precisare che non abbiamo parlato di gestione dei boschi in senso naturale ma abbiamo proprio parlato di come rendere fruibile un bosco nell'ambito del forest bathing e questo nonostante molti di noi anch'io in passato mi sono detta ma non c'è bisogno di fare un corso per andare in foresta perché io e Francesco siamo i primi che partiamo e se non ci perdiamo non ci divertiamo in realtà poi mi sono resa conto proprio ospitando qui le persone alla fattoria dell'autosufficienza e accompagnandole in giro che tante persone come diceva Antonio un po' lontane dalla natura hanno proprio bisogno di essere prese per mano e accompagnate dentro un bosco hanno bisogno di vedere il sentiero hanno bisogno di vedere che c'è un'entrata e un'uscita e quindi magari è un modo che può sembrare innaturale rendere fruibile un bosco per loro ma in realtà è un modo per innanzitutto portare guarigione ad altre persone a farle avvicinare al mondo naturale e a farglielo apprezzare perché se io porto anche solo penso a mio parente in un bosco selvaggio dicendo che non conosco il sentiero non so dove andiamo non so quando torneremo se torneremo questo non amerà la natura ma anzi penserà che non fa per lui e quindi si allontanerà ancora di più quindi in realtà ci tenevo a precisare questo che come nel bosco c'è tanta biodiversità anche fra le persone c'è molta biodiversità e magari noi siamo un po' più selvaggi molti dei nostri spettatori forse facciano fatica a accogliere questo aspetto siamo già più più integrati nella natura ma tante altre persone hanno proprio bisogno di un approccio graduale per poi invece magari diventare ancora più selvagge di noi perché ne ho viste di trasformazioni e ne continuerò a vedere sono certa confermi Antonio sì sì assolutamente come dicevo così come esistono tanti boschi esistono anche tanti approcci esistono tante sensibilità e secondo me proprio perché c'è tanta mancanza di sensibilità perché siamo tanto cittadini alcune volte soprattutto le prime volte è opportuno che qualcuno ti faccia ti accompagni con molta delicatezza e molta sensibilità ad apprezzare il bosco poi uno quando uno ha levato le proprie maschere e le proprie corazze può vivere il bosco in maniera autonoma e non parliamo di trekking non parliamo di camminate non parliamo di nordic walking è totalmente un altro modo attenzione mia moglie dice sempre ma io sto benissimo in spiaggia il mio forest bathing lo faccio con i piedi nell'acqua a prendere il sole e infatti ma non è che cioè io non posso non sopporto il mare e io non vedo l'ora di stare in bosco e lei è l'opposto quindi non posso forzarla per le orecchie perché lei soffrirebbe ecco un pochettino questo insomma e poi in realtà anche i luoghi d'acqua sono grandi emittenti di ioni negativi quindi non biasimiamo va bene anche il mare ogni tanto ma infatti ma vabbè a proposito infatti una domanda sull'idoneità diciamo delle foreste a questa pratica è proprio se i corsi d'acqua presenti aumentano le proprietà benefiche e le diciamo le fonti di guarigione di questi di questi ambienti assolutamente sì infatti nel punteggio purtroppo in 45 minuti dovevo correre tu pensa che questo corso di formazione dura 16 ore più abbiamo 24 ore di pratica per permettere ai dottori forestali di classificare quindi è abbastanza complesso però la presenza dell'acqua è il massimo del punteggio per non solo per il fatto che crea ioni positivi ma perché l'uomo ha bisogno dell'acqua ha bisogno di sentire il rumore dell'acqua ha bisogno di respirare quella atmosfera con l'acqua quindi è un elemento che rappresenta qui quattro elementi cardini no acqua fuoco terra e aria e quindi avere un bosco con l'acqua potenzia tutto ciò che è intorno questo sicuramente mi piacerebbe rispondere alle domande purtroppo io mentre facevo non ho visto quali domande ti prego a te di selezionarle sì sì infatti ne ho altre due e una curiosità che avevamo anche qua dallo staff e che ci hanno chiesto anche gli spettatori da casa esattamente che cosa rilevavi con quei sensori che abbracciavano gli alberi all'inizio della presentazione allora per chi è curioso se va su internet mette tritalker il mio cognome Bruno Ori e poi Piegaro che è la foresta dove sono installate superquark è venuta quindi c'è avuto un onore enorme e questi sensori rilevano il flusso linfatico cioè la velocità della linfa dalle radici alle foglie la capacità fotosintetica perché attraverso la chioma la luce viene filtrata quindi viene catturata quella parte di infrarosso della luce per fare fotosintesi quindi io sapendo quanto è la luce fuori e sotto riesco a capire quanto è la capacità fotosintetica poi le vibrazioni poi l'accrescimento diurno e notturno perché un'altra cosa meravigliosa è avere scoperto che queste piante di notte si ingrandiscono e di giorno diminuiscono quindi è come se respirassero no? ma questo è un fenomeno fisico legato al turgore dell'acqua poi ho analizzato altre cose tipo l'apertura degli stomi il turgore eccetera eccetera e le ho trasformate in musica quindi ho dato voce alle piante ed è incredibile sentire le reazioni sonore della pianta di primavera di estate di autunno cioè proprio bello anche se questa non è la voce degli alberi è un fenomeno di sonificazione dove io ho trasformato dei dati scientifici in un qualcosa percepibile e quindi ho in pratica spiegato ai miei figli che cosa facevo hanno capito più con questo esperimento che in anni e anni di spiegazione sulla selvicoltura l'assestamento non gliene frega niente ma quando hanno capito che io capisco le piante attraverso l'interpretazione dei dati ecofisiologici sono diventati più amici del babbo giustamente esatto ognuno ha bisogno della propria forma per avvicinarsi alla natura e un'altra domanda riguardava appunto sì sempre la fruibilità dei percorsi anche per i disabili quindi si creano anche durante nei luoghi in cui si pratica forest bathing questi sentieri adatti a persone con diverse abilità sì e no nel senso che si può fare dove la natura lo permette perché io io ho progettato diversi percorsi di accessibilità per tutti e ci stanno delle aree in cui non ha senso andare a distruggere la natura per fare per permettere a delle persone di fare un salto con una pendenza superiore al 15% non è giusto però si deve con una giusta sensibilità permettere di avere accesso alla natura nella maniera più semplice possibile cioè è una questione anche di praticità se io voglio far arrivare tutti quanti in cima al Monte Bianco dovrei fare un ascensore che della base va su ogni ok ecco io che sono normodotato non posso fare la stessa cosa di un alpinista esperto questo devo pensare così anche l'approccio alla natura deve essere di rispetto permettere ciò che è possibile questo sicuramente ok e in ultimo se ci dai qualche spoiler dei boschi migliori per praticare questa questa pratica appunto di guarizione di benessere lui è il rosso vuole uscire ma dopo dopo allora guarda ma esistono tanti boschi sicuramente i più famosi sono quelli storici quindi già l'ho detto il parco del respiro fai della paganella o a Sizzegna c'è allora in provincia di Pistoia c'è un'area che Meneguzzo sta studiando poi ce ne esiste nelle valli del Natisone in Friuli Venezia Giulia al Bosco della Miata quindi al Consorzio Forestale nella parte grossetana diciamo che sono tanti ma formalmente ognuno l'ha classificato per come vuole no quello che stiamo cercando di fare è quello di classificarli in maniera standardizzata in maniera proprio particolare cioè con punteggi alcuni dicono le foreste casentinesi piuttosto che il bosco di Paneveggio allora tutti i boschi se gestiti e quindi se permetti di entrarci o se hanno un'età sufficiente tipo le foreste vetuste dove ci si può entrare camminando senza problemi creano le condizioni per poter fare forest bathing questo sicuramente da un punto di vista pratico non tutti i boschi ti permettono di fare forest bathing semplicemente perché o sono abbandonati e quindi c'è proprio difficoltà ad avere accesso oppure perché non ci stanno strade quindi come dicevo l'occhio vede quello che la mente conosce il mio limite è che sono un dottore forestale so perfettamente le potenzialità di una foresta però l'occhio mio ok ecco perché abbiamo ci siamo affidati a degli esperti esterni che permettano la idoneità classificarla non dagli occhi di un dottore forestale ma unendo gli aspetti biochimici gli aspetti dell'accessibilità gli aspetti della fruibilità della accessibilità gli aspetti biologici gli aspetti strutturali perfetto grazie mille a questo punto ne approfitto per ricordare che anche in fattoria dal 27 al 29 maggio si terrà un corso di forest bathing tenuto da me Elena Rossi un'altra ragazza laureata in biologia bravissima e super appassionata quindi per chi è interessato può andare a consultare il programma su macrolibrarsi o su autosufficienza.it io ti ringrazio io ti ringrazio tantissimo Antonio prego per essere stati con noi e ci vediamo presto sì perfetto grazie ancora Giulia grazie buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti